Buongiorno a tutti, oggi è martedì, il Milan riprende gli allenamenti nel pomeriggio e vi informeremo infatti nel corso della giornata sugli sviluppi di quelli che potrebbero essere i rientri di alcuni giocatori nell'allenamento con il gruppo, mi riferisco a Romagnoli, Castiglieco, ulteriori verifiche le faremo su Messias, quindi in serata saremo sicuramente più precisi su quello che sarà l'allenamento del pomeriggio, anche perché il Milan da oggi riparte per non fermarsi più, per arrivare direttamente alla partita contro la Fiorentina nel modo più preparato possibile per sfidare appunto i viola di Vincenzo Italiano. Ieri sera brutta figura per la nazionale italiana, soltanto 0-0 con l'Irlanda del Nord, l'Italia non si è qualificata per Qatar 2022, deve farlo obbligatoriamente attraverso i play-off che si disputeranno a marzo, è uno 0-0 molto scialbo brutto, poche occasioni, poca convinzione, poca cattiveria, ho visto davvero un'Italia spaesata in quella di Belfast. 45 minuti solamente per Sandro Tonali che è stato anche condizionato da un'ammunizione, 45 minuti comunque sufficienti per il centrocampista rosso-nero che da oggi tornerà a Milano. Purtroppo la nazionale ci ha restituito un Davide Calabria infortunato, probabilmente deve rimanere fuori per un bel po' di tempo, non siamo ancora sicuri sui tempi di recupero perché appunto il club non ha ancora comunicato quanto tempo dovrà star fuori Davide Calabria ma potrebbe saltare più di 3-4 partite. Quindi purtroppo a ogni sosta per le nazionali c'è un problema per il Milan e questo è un dato di fatto, basta vedere appunto le scorse pause per le nazionali quanti problemi hanno portato ai rosso-neri, compresa quella attuale con l'infortunio a polpaccio di Davide Calabria. In questo video però vogliamo parlare anche di calciomercato, in particolar modo di Renato Sanchez, nome che stuzzica molto il Milan. Al Milan il giocatore piace, al Milan il giocatore interessa, lo ha fatto seguire in passato, lo segue attualmente e naturalmente quando c'è questo tipo di operazione l'ostacolo maggiore è sempre il prezzo, c'è poco da fare perché se il Lille chiede 30 milioni di euro è ovvio che il Milan poche volte arriva a questa cifra, c'è arrivato per Tomori riscattandolo per 29 milioni dal Chelsea, c'è arrivato parzialmente per Leao offrendo 25 milioni, acquistandolo meglio per 25 milioni, poi il resto insomma sono state spese un po' più basse. Però il sacrificio per Renato Sanchez magari il Milan potrebbe farlo a giugno quando quasi sicuramente che sì non rinnoverà il contratto e quindi di conseguenza il Milan deve rinforzare quella zona del campo. Ricordiamo che tornerà a Pobega, ci sarà anche Adli a centrocampo, Benasser, Tonali, però bisogna avere un centrocampista anche con caratteristiche diverse e Renato Sanchez ho visto che mette un po' tutti i tifosi d'accordo, c'è chi dice che non ha molta continuità perché è spesso infortunato ed è vero però quando gioca è un giocatore che può far la differenza, può essere il degno erede di Frank che sì. Il problema del cartellino dicevamo 30 milioni ad oggi, poi magari sicuramente il prezzo del giocatore calerà in estate perché Sanchez si troverà solamente poi in estate ad un anno dalla scadenza del contratto che scade nel 30 giugno del 2023 e quindi di conseguenza il Milan potrebbe fare anche un'offerta al ribasso, magari inserire qualche contropartita all'interno dell'affare. Ricordiamo che il Milan in questa ipotetica operazione con il Lille ha un alleato molto importante e si chiama Jorge Mendes, è lui l'alleato del Milan perché Mendes vedrebbe sicuramente di buon occhio il trasferimento del suo assistito dal Lille al Milan con tutto il rispetto per il Lille che è un'ottima squadra e ha vinto l'anno scorso la Ligan, non è il Milan, non è il brand del Milan, non ha il blasone, il fascino del Milan e quindi Jorge Mendes che ha ottimi rapporti con Paolo Maldini e i rossoneri potrebbe essere un alleato speciale, particolare di questa operazione. Anche perché con Mendes si sta discutendo in questo momento il rinnovo di Raffa Leao. Raffa Leao che vuole rimanere al Milan, vuole rinnovare e prolungare con i rossoneri, ricordiamo che lui scade nel giugno del 2024, guadagna poco meno di 2 milioni di Euro a stagione e potrebbe rinnovare a breve nel giro di qualche settimana fino al 2026 con un adeguamento dello stipendio. Questo sicuramente potrebbe essere un antipasto per Renato Sanchez nel senso che Jorge Mendes vedendo rinnovare, vedendo la buona volontà del Milan nei confronti di Leao è invogliato magari anche a favorire il trasferimento di Sanchez al Milan come suo secondo assistito in rosso-nero. Diciamo che al momento non c'è una vera e propria trattativa per il portoghese, il centrocampista portoghese del Lille, a me sinceramente piace sempre essere chiaro e realista nelle cose, al momento non c'è una trattativa, Milan e Lille non si sono sedute al tavolino, le due formazioni, le due squadre per parlare del trasferimento di Sanchez, però è un giocatore che a me piace e interessa e a casa Milan il nome di Sanchez stuzzica non poco, è un giocatore che sinceramente potrebbe fare al caso del Milan per quello step ulteriore, soprattutto a livello europeo, se il Milan dovesse giocare anche la prossima stagione in Champions League come ovviamente tutti ci auguriamo. Nel parlare di Sanchez abbiamo fatto un collegamento con Leao perché lui sta per rinnovare il contratto, così come Teo Hernandez e Ismael Belasser, sono i tre giocatori su cui il Milan sta lavorando di più per prolungare il contratto e portarlo dal 2024 al 2026 con adeguamento salariale per tutti e tre i giocatori, ma naturalmente diciamo il tesserato Milan che ci sembra più vicino al rinnovo è il mister, la Stefano Pioli perché ovviamente i discorsi magari sono partiti un po' prima, c'è grande rapporto proprio giornaliero con i suoi procuratori, si attende probabilmente il rientro in Italia di Ivan Gazidis per annunciare tutti insieme questo rinnovo che dovrebbe essere di due anni con opzione sul terzo anno, anche per lui un aumento importante, sostanzioso dell'ingaggio perché insomma il mister fino ad ora ha guadagnato 2 milioni a stagione e nella classifica degli allenatori in Italia non è nemmeno ai primissimi posti per quanto riguarda l'ingaggio agli allenatori e quindi è un rinnovo sicuramente meritato, nei prossimi giorni verrà annunciato, ci dicono che potrebbe arrivare entro la fine del mese di novembre questo annuncio, poi per gli altri tre giocatori si lavorerà a rinnovare entro la fine del 2021, quindi entro il 31 di dicembre 2021 mi riferisco a Ben Asser, Teo Hernandez e Rafa Leao, dirigenza sempre concentrata sui nuovi, squadra sempre concentrata sul campo.